Ora buonasera, buonasera ovviamente ai nostri ospiti e a chi da casa ha scelto di trascorrere con noi questo pomeriggio, questo tema molto importante, buonasera quindi in particolare dicevo ai nostri ospiti che vi presento rapidamente, sono il professor Fernando Belelli che è dottore di ricerca in scienze umanistiche, ricercatore presso l'Università di Modena in Reggio Emilia e curatore del volume che stasera presentiamo, il professor Raimondo Cubeddu che è professore ordinario di filosofia politica all'Università di Pisa, ben noto al pubblico dell'Istituto Bruno Leoni ed è direttore della collana politica presso l'enditore Cantagalli, presso cui il volume è stato pubblicato e poi Alberto Mingardi che in particolare non ha bisogno di presentazioni qui in questa sede ma per quei pochi non lo sapessero, fra le altre cose, direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni e questa sera, ovviamente c'è innanzitutto un ringraziamento per chi, dicevo, tra di voi ha scelto di trascorrere con noi questo pomeriggio, ringraziamento ovviamente anche a nome dell'Istituto Bruno Leoni che ha organizzato l'evento questa sera, come dicevo, presentiamo questo volume che è la nuova edizione italiana della filosofia politica e di Antonio Rosmini che è insomma tra le opere più note e importanti del prolifico sacerdote Ero Veretano. A me è stato affidato il compito di introdurre la serata, ma se devo essere sincero quello dell'introduzione un po' ruolo, un po' forse troppo importante rispetto a quello che dirò perché mi sono accostato seriamente per la prima volta alla lettura di Rosmini proprio in vista di questa serata e devo dire proprio grazie a questa edizione della filosofia della politica di Rosmini perché il pregio più importante dell'opera che presentiamo è il costituire una, direi, traduzione in senso molto lato cioè una resa in italiano corrente dell'opera di Rosmini Opera di Rosmini che aveva, che ha un limite intrinseco importante che è questo italiano a tratti eccessivamente pedante, eccessivamente involuto e che quindi ha per giudizio comune costituito l'ostacolo più grande alla diffusione attuale del pensiero di Rosmini il quale nonostante almeno mi pare tutti i limiti della e della sua prosa costituisce un nome ben noto al mondo culturale cattolico, al mondo culturale e liberale e diciamo quella intersezione particolarissima tra i due mondi che si vuol dire cattolicesimo liberale o liberalismo cattolico o forse addirittura, ma questo ce lo diranno meglio i nostri ospiti per utilizzare il termine rosminiano liberalesimo e dicevo che la mia più che un'introduzione è una sorta di testimonianza del perché leggere questa edizione della filosofia politica è una sorta di stellina che anziché su Amazon do in viva voce e veramente in questo modo si ha accesso diretto al pensiero dell'autore quindi non si deve fare ricorso a mediazioni ulteriori, non si incontrano difficoltà e in questo modo si scopre un autore preziosissimo con intuizioni e anticipazioni veramente importanti detto ciò io non mi dilungo oltre perché insomma la serata immagino sarà ricca e intensa do solo qualche indicazione tecnica e cioè siccome il bello, l'elemento qualificante di questi eventi e poi anche il dibattito finale, chi di voi ci segue su Zoom trova in basso a destra uno spazio riservato alle domande e risposte quindi scrivendole lì poi le raccoglierò io alla fine le indirizzerò ai nostri ospiti, chi di voi ci segue su Facebook può invece utilizzare lo spazio dei commenti che trova lì e detto questo io direi di entrare nel vivo dell'evento e quindi di chiedere al professor Cubello di dare avvio ai lavori come si suol dire in queste occasioni Grazie, grazie Portonera e grazie a tutti voi, vedo che ci sono già 48 persone che partecipano è un numero eccezionale, a me non mi era mai capitato precedentemente sono molto contento perché questo è il segnale di un'attenzione per questo grande personaggio e anche di un'attenzione per questo lavoro che grazie a Belelli e anche grazie ad altre persone che poi certamente ricorderò è stato fatto. Cos'è che mi ha spinto a pubblicare questo volume? Ecco ve lo faccio vedere, forse non si vede bene, però insomma tipo specchio è un progetto che coltivavo da vari anni se non vari decenni in cui messomi a leggere per motivi professionali la filosofia della politica di Rosmini insomma ho faticato tantissimo, ho faticato tantissimo e ho anche smesso a un certo punto perché era una fatica un po' troppo grossa, però mi era rimasto questa cosa guarda questa idea, guarda questo libro così bello, così importante che poi è illegibile e allora avevo pensato di coltivare questo sogno di trovare un giorno qualcuno che potesse aiutarmi a renderlo più accessibile e il sogno se volete si è realizzato quando ho incontrato per motivi casuali Belelli a un convegno promosso dal nostro comune amico Paolo Eritier e io gli ho parlato di questa cosa e lui si è subito detto disposto e contento di poter fare questo lavoro. Quindi abbiamo inizialmente definito il progetto renderlo in italiano accessibile a questo punto e magari ridurlo a questo punto però si è posto un altro problema dico ma chi è che lo fa? Ecco non volevo assolutamente fare un'operazione di questo tipo di tagliare quelle parti che per un laico come me potevano essere sgradeboli ecco oppure anche ridurlo, tradurlo se vogliamo adattarlo in modo tale da smussare certe cose e allora grazie a Belelli di nuovo abbiamo incontrato due studiose di Rosmini, Sor Maria Riva e la professoressa mi dimentico sempre il nome come lei sa, spero che ci sia tanto, come si chiama, hanno fatto questo lavoro me l'ero segnato ma mi è caduto il foglio per terra dovrei andare a cercarlo, va bene, lo dirà poi Fernando allora hanno nell'ambito stesso della comunità rosminiana accettato di fare questo lavoro che è stato fatto quindi insomma abbiamo cercato di ridurlo nell'ambito della ortodossia rosminiana incoraggiati anche dal padre generale dalle vertici della gerarchia rosminiana diciamo così e quindi poi fatto una volta una volta pensato tutto questo siamo andati da Cantagalli che è l'editore della collana politica che dirigo e nella quale come dico probabilmente i libri di ispirazione cattolica non erano poi neanche tanti e David è stato molto contento di questa cosa e siamo passati alla fase operativa tradurre, ridurre i criteri, risistemare le note perché le note fatte da Rosmini erano qualcosa che non si riusciva a capire nulla ci voleva troppo tempo per capirci qualcosa e perdere troppo tempo per una cosa che si poteva rivelare di scarsissima utilità è una cosa che non favorisce la lettura dell'opera dopo di che abbiamo fatto tutto questo che cosa è venuto fuori? è venuta fuori una cosa innanzitutto per questi tempi decisamente interessante ed è il fatto che Rosmini è a mio parere insieme a Machiavelli il più grande Machiavelli e Rosmini sono i più grandi filosofi politici italiani punto e basta punto e basta di carattere molto diverso ovviamente Rosmini è un filosofo politico perché la sua parte, la sua filosofia della politica si inserisce all'interno di un sistema filosofico che lui ha elaborato quindi se noi dovessimo prendere in considerazione per definire un'opera di filosofia politica o di pensiero politico quelli che sono dei criteri straussiani direi che qui ci siamo completamente questo è un contributo, è un trattato originale originale come idee e via di sé che si inserisce all'interno di un sistema filosofico elaborato da Rosmini quali sono le caratteristiche di questo sistema? beh, una l'abbiamo già detto è una delle grandi opere forse delle più grandi opere della tradizione della filosofia italiana e della filosofia politica italiana intendendo per italiana della filosofia politica della quale si è scritto in Italia e quindi siamo qui anche se noi pensiamo al fortunatissimo volume di Roberto Esposito Pensiero vivente in cui Rosmini non c'è neanche quindi non si tratta di dire c'è una tradizione italiana la tradizione italiana è fatta da un'infinità di cose c'è Machiavelli c'è Vico c'è Rosmini c'è Benedetto Croce c'è Giovanni Gentile c'è Bruno Leoni i grandi veramente i filosofi politici sono a mio parere veramente pochi e tra questi pochi è sicuramente è sicuramente Rosmini quindi restituire anche alla nostra tradizione filosofica questa voce che nonostante il fatto che abbia suscitato sempre da sempre interesse tra gli studiosi di filosofia di filosofia politica di filosofia del diritto basti pensare che su Rosmini ha scritto ha scritto Piovani ha scritto Domenico Fisichella ha scritto recentemente ha scritto recentemente non solo recentemente Nicoletti ma insomma il numero delle persone da Dio ha studiato Rosmini il numero degli studiosi italiani Mercadante ma il numero è sterminato Danilo Zolo si sono ha avuto sempre una grandissimo successo di critica diciamo così e però sostanzialmente non un successo non un successo di pubblico come si potrebbe dire ecco nonostante nonostante questo l'immagine che noi abbiamo di Rosmini è quella di un personaggio troppo legato alle vicende della vita cristiana cattolica romana nel periodo molto frastagliato e difficile che fu quello del risorgimento la sua polemica con Gioberti la sua polemica con l'ostracismo che venne poi rivelato da quella tradizione della filosofia politica cattolica che si rivelò vivente vincente che era quella di Tapparelli d'Azeglio di Liberatore beh non dimentichiamo che quest'opera va vista all'interno quindi di questa grande rinascita della tradizione politica cattolica che noi abbiamo inizialmente e soprattutto in Italia alla fine all'inizio dell'Ottocento è una sorta di manifestazione del fatto che ci si rende conto che dopo la rivoluzione francese ci si rende conto di due cose sostanzialmente primo del fatto che non era più possibile tornare indietro e secondo che la cristianità e il cattolicesimo nel suo orgoglio di cattolicesimo e si trovavano spiazzati da due punti di vista da un primo punto di vista nei confronti della produzione teologica e politica diciamo così protestante da un altro punto di vista ma più in generale si ritrovano in un mondo che è il mondo moderno dal quale a partire dal Seicento si erano esclusi si erano esclusi se noi andiamo a pensare quali sono stati dal Seicento da Suález da Vittoria i grandi contributi del pensiero cattolico a quella che è la filosofia il pensiero politico moderno beh ci troviamo che proprio da un punto di vista di cattolici cattolici c'è stato poco c'è stato poco quindi il libro di Rosmini si inserisce ma con più con più con una caratterizzazione più cattolica beh perché nel fatto confrontiamoci con questo con questo mondo con la modernità e questo è quello che fa Rosmini e che da un altro punto da un altro punto di vista poi non esageriamo neanche tanto fa anche Tapparelli d'Azeglio in quell'altro bellissimo libro che il saggio sul diritto naturale è fondato sul fatto in cui c'è questo tentativo serio ponderato di misurarsi con la modernità e con gli eroi della modernità prendendoli di petto e nel nostro caso nel caso di Rosmini noi abbiamo due obiettivi fondamentali al di là degli obiettivi polemici italiani gioia melchiorre gioia romagnosi e via di segreto ma sono sostanzialmente Malchius e e e e Rousseau ecco Malchius e Rousseau e gli emblemi della della modernità con cui il il cattolico Rosmini si confronta e si confronta ma e non è un confronto vecchio tipo no riprendere una un'idea una una idee che appartenevano al passato non è il confronto che fanno altri cattolici tipo De Mestre o Müller del cattolicesimo reazionario della rivolta reazionaria cattolica alla rivoluzione francese non è un tentativo di tornare a prima è un tentativo di prendere atto che questo c'è stato e che in questo il cattolicesimo ha ancora un suo ruolo una sua importanza una sua vitalità che occorre riaffermare che occorre riaffermare da questo in questo modo vanno lette da una parte gli apprezzano per esempio in quest'opera non è che non è che Rosmini abbia tanto si mostri tanto favore favorevole alle idee di Constant mentre invece è molto più vicino alle idee di Tocqueville ovviamente direte voi e beh certo ovviamente ha anche delle posizioni di riserva nei confronti di Kant che secondo un modo abituale allora in questi ambienti era visto quasi come una propage una continuazione un risultato non molto felice e secondo loro basti pensare a quello che diceva Tapparelli da Zeglio che dice che Kant rivestiva da filosofia universale i suoi pregiudizi da protestante beh insomma il giudizio di Rosmini non è che sia nella sostanza molto diverso nell'ultima volta nell'unica volta in cui in questo libro in questo libro ne parla quindi questo orgoglio cattolico di confrontarsi con la modernità ma non da un punto di vista di inferiorità e neanche cercando di ribaltarla ma proprio un confronto aperto e vedendo cosa cos'era cos'era anzitutto cos'era studiare la modernità in che cos'era e l'analisi di quelli che sono gli obiettivi polemici non è banale non è banale non è che ci si soffermi su personaggi secondari ci si sofferma su dei personaggi importanti nodali che sono appunto Malchus quella tradizioni così e Rousseau e Kant per altri punti di vista in genere la produzione politica tedesca in questo caso qui protestante tedesca è trascurata è una cosa da un punto di vista interessante dal punto di vista della storia del pensiero politico perché mostra quali erano i punti di riferimento ma soprattutto vorrei dire anche la serietà con cui questo lavoro viene fatto qui si cerca di capire che cosa avevano che cosa dicevano veramente questi autori che vengono criticati e questo lo possiamo trovare sia in Rosmini sia lo possiamo trovare anche in Tapparelli d'Azeglio non ci sono giudizi superficiali quelli che possono apparire giudizi sprezzanti sono giudizi che hanno una loro logica e la logica era quella di un cattolicesimo che non aveva nessun complesso di inferiorità nei confronti di nessun'altra corrente filosofica o teologica allora sul mercato sul mercato delle idee da questo punto di vista l'opera è sicuramente al di là di quelli che sono i suoi contenuti specifici i suoi contenuti specifici sono ugualmente importanti e sono importanti perché da filosofo politico Rosmini prende in considerazione che cosa quello che è il problema qual è il criterio il punto di riferimento del quale noi possiamo servirci per valutare le istituzioni per valutare le azioni umane per esprimere una valutazione sulle azioni politiche sulle istituzioni politiche sulla politica in generale questa esigenza di un punto fisso che per il liberalismo era il diritto naturale sia nella forma di diritti naturali alla loc sia nella forma di legge naturale qui naturalmente ovviamente direi più che naturalmente è costituito dal cristianesimo è il cristianesimo con i suoi punti fissi che consente che consente alle civiltà nell'ambito di quel processo di crescita di fioritura di decadenza e di rinnovamento di capire di avere sempre fissi qual è il punto di non perdersi in questa dialettica interna alle società tra le classiche quasi ispirate da una sorta di consumismo come si direbbe oggi vogliono di più e invece l'elite che devono tenere conto di una serie di circostanze che alle masse sfungono da questo punto di vista noi mi avvio a concludere e cosa possiamo dire da questo punto di vista dobbiamo dire che Rosmini elabora una sua soluzione non crede nella virtù in questo caso nella virtù salvifica della Costituzione delle Costituzioni pensa che sia sempre che questa dialettica sia interna e che questa sia la caratterizzazione della politica su questa dialettica si possa costruire una scienza politica come con delle costanti matematiche dice a un certo punto quindi una scienza politica alla quale il fatto che esista Dio e che Gesù sia il Cristo non toglie nulla ma semmai aggiunge qualcosa aggiunge quel punto di vista eterno perenne che al liberalismo e alla modernità manca che manca la modernità nella denuncia che Rosmini fa di quella che è la teoria di Rousseau e anche in quello che è poi la teoria politica di altri esponenti il grande problema che noi ci possiamo porre che la questione alla quale viene spesso collegato Rosmini è se Rosmini sia un liberale il liberalesimo di Rosmini beh insomma su questo perché perché Rosmini sostanzialmente è un sostenitore della proprietà ma questa non è una grande cosa in realtà c'è una tradizione cattolica della proprietà che va dal medioevo e nella quale si inserisce Rosmini piuttosto che nell'idea di proprietà alla Loc o quant'altro che ovviamente conosceva che ovviamente non disprezzava ovviamente però si tratta di una congiunzione ora se noi pensiamo a quella frase di Hayek che dice che la grande importanza di Hume nella storia del liberalismo è stata quella di dimostrare che fosse possibile una società che non si reggesse sulla benevolenza che non si reggesse sulla benevolenza e in questa identificazione in questa idea di Hume Hayek dice lì è l'essenza del liberalismo ecco se noi dovessimo prendere il cosiddetto liberalismo di Rosmini da questo punto di vista dovremmo dire tranquillamente che Rosmini non è un liberale la società di Rosmini non fa a meno della benevolenza non può fare a meno della benevolenza perché altrimenti verrebbe Rosmini non sarebbe Rosmini non sarebbe non sarebbe un cattolico e questo il grande punto centrale anche di interesse di Rosmini cercare di consapevole di questo e noi lo vediamo nelle parti in cui tratta dell'edonismo parlando anche di epicureismo di consumi e via di seguito lo vediamo lo vediamo in questo il tentativo di trovare una soluzione ed è forse il tentativo più importante che sia stato fatto forse è la consapevolezza più avvertita del fatto che all'interno di quella che è la civiltà occidentale non si poteva pensare che questi due mondi e intanto che avevano molto in comune il mondo del cattolicesimo per certi versi come lo intendeva Rosmini e il mondo del liberalismo che si stava formando i quali erano ovviamente entrambi avversi a quella che era l'ideologia democratica e socialista che si stava fermando quest'opera del 38 il problema diciamo così non si pone ancora inizia a porsi negli anni successivi successivamente al 48 e sostanzialmente però capire che queste due tradizioni avevano una possibile una margine di intesa cercarlo non era facile trovare non era facile però bisognava non tirarsi non tirarsi indietro questa è la grande questa è la grande la grande importanza di Rosmini la consapevolezza di questo problema e d'altra parte e qui chiudo direi anche un'altra finisco con un'altra cosa ecco noi possiamo dire che la filosofia politica è la ricerca umana non assistita dalla ragione e non dalla rivelazione del miglior ordine politico del miglior regime politico bene se noi dovessimo prendere in considerazione questo aspetto diciamo che no Rosmini allora non sarebbe un filosofo non sarebbe un filosofo politico però io mi chiedo anche quanti siano quelli che hanno escluso la divinità dal problema politico se la filosofia politica possa esistere senza la consapevolezza del problema teologico politico del rilievo che ha il dibattito la dialettica tra filosofia e rivelazione ecco da questo punto di vista anche noi possiamo vedere la grandezza di Rosmini Rosmini è consapevole di questo problema del fatto che qualsiasi teoria politica qualsiasi filosofia politica non può escludere a priori la rivelazione e certamente il tentativo di trovare una soluzione la filosofia politica una soluzione umana al problema politico umano ma da questa soluzione noi non possiamo escludere il problema dell'esistenza di Dio della rivelazione e questo è un altro aspetto importante del pensiero di Rosmini ed è uno di quelli contributi che è sempre attuale perché noi continuiamo a dibattere di queste cose e quindi concludo dicendo che mi farebbe molto piacere se questi temi venissero venissero non dico condivisi ma venissero avvertiti se si pensasse a questo problema se si vedesse la grandezza di Rosmini non tanto nelle soluzioni che ha proposto siamo 1839 figuriamoci tante cose erano molte cose erano diverse ma nell'avere identificato quella che è la particolare il problema il problema e questa è la cosa importante ed è quello che fa di Rosmini non un cattolico liberale o un liberale cattolico quello che volete ma un filosofo politico che è aperto alle ragioni degli altri e che gli altri li prende seriamente in considerazione non in maniera celtronesca studiando le cose poi magari si può discutere sulle interpretazioni ma questo su quali interpretazioni noi non possiamo discutere noi liberali io in primo luogo discuto le interpretazioni di Aie che su certe cose ma figuriamoci se questo se questo mi spaventa non dobbiamo spaventarci per le differenze ma dobbiamo studiare e vedere le cose seriamente ecco ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche l'istituto Bruno Leoni che ancora una volta ha voluto dare un po' di attenzione alle cose che proponevo sul mercato sul mercato delle idee alcuni per alcuni può sembrare un po' strano che dopo il mio libro individualismo e religione nella scuola austriaca mi sia occupato anche di quest'altra cosa di quest'altro autore che era Rosmini ma io penso che un filosofo politico debba essere comunque aperto a quello che comunque sia la sua posizione al problema della rivelazione del fatto che la filosofia è la ricerca del tutto della conoscenza e da questa conoscenza non può essere esclusa la rivelazione grazie 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 professore io ho dimenticato all'inizio facendo non bene il mio dovere di moderatore che il professor Pubello non è solo il direttore della collana ha anche scritto una preziosa nota editoriale al testo in cui trovate praticamente tutte le cose che ha già così ben detto a voce ma vi assicuro che leggerle fa soltanto bene aggiungo solo una cosa stimolato dalle cose che ha detto lei sul confronto senza timori senza ritrosie con profondità che Rosmini ha con la modernità io che sono un giurista sono rimasto sorpreso a un certo punto di vedere citato Alexander Hamilton nei Federalist Papers che insomma a me quando l'ho letto sono rimasto un po' sorpreso felicemente sorpreso e poi lì approfondendo e quando diceva giustamente su come abbia approfondito interpretato e poi ne abbia ne abbia tratto parte del suo pensiero l'idea un po' di questo tribunale politico che aveva che aveva costruito aveva immaginato per la tutela delle libertà naturali diremmo in italiano corrente costituzionalmente garantite che insomma ne fa anche qui aveva magari la soluzione non va bene ma il problema lo aveva individuato e quindi è conferma di quanto sia utile e preziosa la lettura di quest'autore e professor Berelli gli cedo la parola con piacere prego grazie anzitutto anche io doverosamente ringrazio l'istituto Bruno Leone di questa prestigiosissima possibilità di presentazione non posso non ringraziare subito dopo il professore Mondo Kubetu con veramente una sentitissima riconoscenza per aver accompagnato questo lavoro da studioso qualificatissimo quale è con una pazienza e una diciamo attenzione certosina perché oltre ai ringraziamenti che continuano saranno brevi ma devono doverosamente essere fatti devo anche anzitutto forgere le mie scuse nel senso che non è la mia disciplina specifica la filosofia della politica quindi maggior ragione i meriti vanno al professor Kubetu di aver saputo tirar fuori diciamo il meno peggio dalla mia modesta attività i ringraziamenti ancora vanno all'editore David Cantagalli che veramente a sua volta ha fatto in una maniera eccezionale quello che mi è sembrato aver capito lui fa ordinariamente cioè sempre al meglio il proprio lavoro e ha creduto in questa pubblicazione all'interno della collana del professor Kubetu con un merito che diciamo anche nell'esistenziale della mia persona trascende diciamo il bene oggettivo ecco senza mistificarlo applicando se si vuole un principio della filosofia della politica di Rosmini cioè che le persone umane costituiscono il più importante patrimonio delle nazioni nel senso che possono venire fuori fortunamente diciamo trafficati in senso evangelico dei doni da mettere a disposizione di un interesse che sono contento che si stia proprio manifestando incipientemente come più che incoraggiato ancora il mio ringraziamento va senz'altro come mi esortava il professor Kubetu precedentemente a fare alle autorità dell'Istituto della Carità del quale faccio parte in qualità di ascritto quindi il padre generale Vito Lardin e il direttore del centro internazionale degli istituti rosminiani di Stresa nonché anche Maria Michela è già stata citata e Nida Nida Menzio che diciamo ha fatto veramente un lavoro straordinario ottemperando diciamo a uno degli obiettivi principali che il professor Kubetu ci ha consegnato cioè una restituzione linguistica che sia nel contempo fedele ai contenuti di Rosmini e fresca fruibile e ben godibile e chiara in italiano corrente ancora devo ringraziare la persona alla quale è stato dedicato questo volume cioè un imprenditore che a noi ci ha lasciato Renzo Giovetti e la sua famiglia che da sempre accompagnano in senso molto umano questa mia riflessione e elaborazione sull'opera di Rosmini nel tentativo di abbracciarla ma è come passi l'immagine che non vuole essere denigratoria o minimizzante come un Baobab è impossibile abbracciare un Baobab il pensiero di Rosmini è di una vastità di una globalità di una complessità che più ci si inoltre e più ci si accorge di aver bisogno di capire di più e di rivedere quel che si pensava di aver già sufficientemente approfondito quindi oltre ai ringraziamenti non mi voglio dilungare forse ho già il ceduto e chiedo scusa le mie diciamo consapevolezze di limitatezza cioè sono di formazione teologica e di formazione umanistica in senso pedagogico ho affrontato il pensiero di Rosmini dal punto di vista della connessione tra la sua pedagogia la sua filosofia del diritto la sua etica e appunto la sua riflessione teologica e mi sono accorto che non si poteva escludere dalla sua concezione teosofica che appunto è la sua incompiuta pubblicata posto ma la sua teosofia da cui si deriva appunto l'aggettivo la sua maniera teosofica di affrontare le questioni e i problemi vedendola una inesistente nell'altra cioè in trattino esistente non esistente e diciamo è stato veramente piacevolissimo vedere come nella filosofia della politica di Rosmini si verifica una vera e propria sorta di positiva esplosione di tutti e di molti senz'altro non dire tutti i fulcri dei suoi capisaldi epistemologici disciplinari delle altre scienze che lui ha approfondito oltre alla filosofia della politica vorrei spendere una parola sul valore della trascrizione in italiano corrente perché è certamente un dibattito molto aperto e diciamo positivamente anche controverso cioè c'è chi sostiene che la divulgazione del pensiero di Rosmini deve evitare di compiere quello che invece noi abbiamo intenzionalmente voluto compiere consapevole della sua importante significatività e dall'altro lato chi diciamo così ritiene che o si fa in questo modo oppure il pensiero di Rosmini è irrimediabilmente perduto io ovviamente qui parlo a titolo personale nel sostenere che dal mio punto di vista queste due posizioni sono dialettiche cioè necessitano di una composizione nel senso che per poter andare al testo di Rosmini originale è necessariamente inevitabile renderlo accessibile in un italiano corrente e d'altra parte questa è un'operazione che mi permetterei di dire è politica un'operazione politica nel senso di una restituzione alla fruizione del bene comune di un patrimonio che è il pensiero di Rosmini non ho certamente bisogno di sottolineare quello che è già brillantissimamente sostenuto e motivato il professor Cubeddu è un autore imprescindibile per non solo per il cristianesimo per il mondo cattolico per le questioni che sono nel dibattito o non sono nel dibattito dell'attuale vissuto intra-ecclesiano quindi io credo che questa operazione abbia un valore importantissimo che non deve essere diciamo isolata ma è auspicabile che anche su altre discipline di Corosmini sia occupato si facciano operazioni dal mio punto di vista ripeto di questo tipo e non è una dichiarazione di intenti ma è una manifestazione di interesse già condivisa anche in altre sedi la mia dichiarazione di essere disponibile a continuare su questo solco sapendo che posso avvalermi di persone che credono in questo tipo di attività ancora inoltre quindi nel nucleo incandescente del pensiero politico rosminiano corre l'obbligo di tentare un'illustrazione per capisaldi di quello che è il contenuto presentato in questa antologia ragionata e selezionata e trascritta dei testi della filosofia e della politica si è voluto restituire le coordinate per orientarsi all'interno della geografia politica di Rosmini e mentre prima il professor Kubeldu parlava sottolineando la scarsissima presenza di riferimenti ai filosofi tedeschi in quest'opera io appunto riflettevo sul fatto che in altre sue opere per esempio antropologia in servizio della scienza morale o principi della scienza morale il confronto di Rosmini con la filosofia tedesca è serratissimo quindi per poter entrare nel merito di quest'opera occorre essere pronti ad aprire e chiudere porte e finestre di altre opere di Rosmini e in particolare credo che quest'opera può essere di aiuto per l'attuale dibattito sulla filosofia della politica di Rosmini che sta avendo una rinascita o un ressourcemo e nel quale diciamo così forse uno dei fattori da tenere maggiormente in considerazione è quello di cogliere come la filosofia della politica di Rosmini è un punto di Archimede della sua riflessione sulla materia un punto di Archimede che ha avuto anche sviluppi da cui Rosmini ha ricavato delle importanti implicazioni per esempio sempre il professor Pubellu prima sottolineava questo aspetto è di Rosmini un saggio sul comunismo e sul socialismo che di dieci anni dopo il 1838-39 appunto rilegge in un certo senso la filosofia della politica di Rosmini di fronte per esempio c'è già qui dentro ma successivamente in modo ulteriormente approfondito ai temi del san simonismo o comunque ai temi che portano Rosmini a misurarsi con l'avanzare di prospettive politiche rispetto alle quali lui si sentiva di portare le sue riflessioni critiche nell'ottica di quello che è già stato nominato come liberalesimo rosminiano proprio perché è una fonte orale che riporta il fatto che i rosminiani si tramandano che Rosmini avrebbe sostenuto appunto fonti orali e ribadisco la sua posizione di fronte al liberalismo ci sono anche qui io mi muovo diciamo come un elefante nella cristalleria tantissime accezioni comunque lui teneva a far presente che la sua personale posizione era da nominarsi da definirsi come liberalesimo ecco il liberalesimo rosminiano ancora di fronte a tutte queste questioni non rifiuta di per certi versi e anche qui diciamo forse inoltro dentro a campi ulteriormente delicati è un'anticipazione della dottrina sociale della chiesa rispetto alla quale è possibile operare una rilettura rovesciata dopo che la dottrina sociale della chiesa con l'areum novarum fino all'ultima appunto fratelli tutti ha dato corso alla sua riflessione prescindendo almeno fino al 2001 formalmente l'anno della nota della congregazione per la dottrina della fede dal pensiero non solo ma anche in questo caso soprattutto politico di rosmini e che cosa che cosa intendo dire che l'operazione che ha effettuato il pape merito benedetto xvi che come prefetto della congregazione per la dottrina della fede poi come papa successivamente ha riproposto rosmini con una chiarezza veramente magistrale all'attenzione del dibattito ecclesiastico e non solo va a mostrare come il confronto tra il cattolicesimo il cristianesimo e il liberalismo è un tema imprescindibile non solo per il futuro dell'occidente ma anche per il futuro del cristianesimo stesso e devo dire che ancora una volta tento una improbabile per le mie incapacità captatio benevolenza del professor Cubedum mentre rivedevamo la mia introduzione una delle cose che ho apprezzato di più è stata come in maniera veramente mirabile magistrale il professor Cubedum mi ha portato a rileggere quell'impostazione che io avevo inizialmente dato di appunto accostare la filosofia della politica di Rosmini con i principi della dottoria sociale della chiesa mi ha portato a rileggere la mia introduzione in un'ottica che dal mio punto di vista quindi non voglio attribuire a professor Cubedum cose che lui non pensa e non dice è veramente già in embrione una operazione riconducibile a quella che secondo me è da auspicarsi cioè una rilettura della dottrina sociale della chiesa con la filosofia della politica di Rosmini letta in chiave dinamica e non soltanto fossilizzata su questo punto di Archimede in una prospettiva che fa veramente venire fuori può far venire veramente fuori delle sorprese importanti e dunque quali sono questi capisanti questi coefficienti queste coordinate della filosofia della politica di Rosmini come appunto ho già iniziato da accennare le persone umane costituiscono il più importante patrimonio delle nazioni perché per Rosmini c'è il principio persona che è il pulcro della della sua riflessione politica dove inevitabilmente entrano in gioco le sue coordinate filosofiche di filosofia della conoscenza di teologia filosofica di museologia appunto e metafisica e quant'altro e il principio persona per Rosmini andando diciamo così in modo da creare un chiasmo tra l'inizio e la fine dell'opera è riconducibile alla sua originalissima riflessione sull'appagamento e sull'antiperfettismo cioè se vogliamo cercare di identificare di comprendere di capire che cose chi è la persona umana per Rosmini vi permetto di dire è importante andare alla sua dottrina dell'appagamento la sua teoria dell'appagamento e dell'antiperfettismo perché qui io sto cercando di dire con le mie parole quello che secondo me stava dicendo il professor Kubehdu che non voglio chiusare in modo ripetuto quando sosteneva che non può essere evitato un confronto tra la filosofia della politica e la rivelazione una ipotetica rivelazione ecco per Rosmini l'appagamento è proprio questo tema cioè il desiderio dell'appagamento è lo scopo della politica ma l'appagamento umano non è raggiungibile per Rosmini all'interno dell'orizzonte mondano creaturale terreno esistenziale e quindi la persona per Rosmini ha una dignità che esige di essere rispettata e riconosciuta e valorizzata e ciò che costituisce questa dignità è il motivo per cui la politica è servizio alla società e alle differenze alle disuguaglianze tra i membri della società qui ancora una volta Rosmini ci stupisce ricordo ancora che nei numerosi incontri anche eano gastronomici che abbiamo condiviso con il professor Cuberdu ci siamo in qualche modo lui sottolineava soffermati con ammirazione alle riflessioni politiche di Rosmini sulla matematica quando sostiene appunto anticipando gli studi della statistica applicata alla politica che per Rosmini la politica paradossalmente qui ovviamente faccio una parafrasi di una chiosa è paradossalmente l'ambito dove le matematiche possono raggiungere la massima perfezione possibile delle loro dimostrazioni teoriche e in un certo qual modo potremmo dire con il titolo di un'altra pubblicazione che di questi tempi circuita su questi temi per Rosmini l'equazione della pagamento è la sintesi della sua filosofia della politica per certi versi nella misura in cui tuttavia ci si rende conto della preziosità della società civile nella sua riflessione della filosofia politica perché questo testo insiste moltissimo sulla dinamica che intercorre nella relazione tra la società civile e lo Stato per Rosmini appunto il primato lo dico in maniera molto becera e quindi ancora mi scuso il primato e della società civile e il primato della società civile e quindi della proprietà privata e della libera iniziativa e come criteri inespongibili nel momento in cui si affrontano questioni tematiche solidaristiche è per Rosmini intrinsecamente connesso con le altre due società di cui si occupa non solo nella filosofia della politica ma anche e soprattutto nella filosofia del diritto e quindi la società domestica che per lui è coniugale parentale e mi avvio a concludere la società che con un termine a tutti gli effetti desueto per cui a maggior ragione è importante una trascrizione perché suona in maniera del tutto fraintendibile oggi la società teocratica per Rosmini la società teocratica è la chiesa ma se si legge si approfondisce la filosofia del diritto ci si rende conto che la concezione ecclesiologica di Rosmini nella relazione tra le tre società quindi la società civile la società domestica e la società teocratica è tale per cui per certi versi le implicazioni anche del diritto canonico dell'ecclesiologia rosminiana nell'assetto teologico pastorale dell'attuale impostazione ecclesiastica riceverebbero delle stimolazioni che Rosmini certamente non direbbe rivoluzionari ma certamente sarebbero da considerarsi copernicane anche relativamente al codice del diritto canonico del 1983 ma anche qui prendo la tangente e mi avvio verso orbite nelle quali poi sarei destinato ad un oblio interminabile per cui mi avvio veramente a restituire la parola che mi è stata concessa così benevolmente nel sottolineare come c'è questo aspetto ancora che probabilmente se vogliamo dire così distinguendo la formula dalla formulazione dell'intuizione che Rosmini fa delle questioni cruciali della filosofia della politica tutur di sempre è riconducibile al rapporto tra il modo con cui si affronta la questione demografica e la proprietà privata qui Rosmini ha dei passaggi straordinari perché paradossalmente paradossalmente per certe impostazioni arriva a dire che l'antidoto per dare una regolamentazione all'esplosione che già all'epoca si paventava demografica era esattamente non l'eliminazione la cancellazione bensì la promozione di un autentico esercizio e possibilità della proprietà privata direi che non mi resta che ringraziare ancora e di nuovo ormai palesatesi le mie limitatezze e chiedere scusa e restituire la parola grazie professore invece è stato un intervento molto interessante particolarmente mi è piaciuto questo sviluppo anche un po' giustante del tema che aveva già introdotto il professor Pubello cioè il fatto che Rosmini è un autore a tutto tondo non è un autore solo per i cattolici o solo per i liberali è un autore che per utilizzare forse un po' impropriamente l'espressione schmittiana maneggia le categorie del politico nella sua complessità e al contempo però come giustamente ha messo in luce lei non si può prescindere dal confronto con la dottrina sociale della chiesa un confronto peraltro esterno visto che la dottrina sociale della chiesa lo ha riconosciuto solo 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 tardi e in questo un po' la mente è andata un altro grande anche questo forse cattolico liberale liberale cattolico come Don Luigi Sturzo a cui sono molto affezionato certo diversissimo da Rosmini non fosse altro perché era lui si era un intellettuale ma più un pratico ecco e quindi sono temi ecco questi molto molto interessanti a questo punto la parola a Alberto che in tema di traduzioni oggi si parlava di traduzioni in italiano corrente ha tradotto in inglese se non sbaglio un'altra delle opere di Rosmini cioè la la costituzione secondo la giustizia sociale quindi forse potrei dirci se nel mondo anglosassone goda un po' di fortuna maggiore rispetto a quella in Italia prego Alberto grazie Giuseppe grazie a Raimondo Cubedo grazie a Fernando Bellelli grazie veramente a Bellelli Menzio e Riva per questo bellissimo lavoro tu dicevi da principio che il linguaggio è stato un problema per la diffusione delle opere di Rosmini ecco forse il sant'uffizio dei gesuiti erano un problema più grosso per la diffusione delle opere di Rosmini però diciamo così risolto questo problema più grosso il problema del sant'uffizio e dei gesuiti grazie a Razziger ma grazie soprattutto a Papa Wojtyla non è un caso che Rosmini entri nella discussione cattolica durante il pontificato di Giovanni Paolo secondo non è un caso che Rosmini sia totalmente eccentrico rispetto a qualsiasi tipo di discussione si abbia oggi in ambiente cattolico sotto Francesco ebbene risolto questo problema è stato giusto applicarsi anche alla soluzione del problema diverso della difficile penetrazione dei testi di Rosmini io ricordo che tanti anni fa forse lo ricordo anche Raimondo Cubedo Rocco Buttiglione scherzava dicendo che Rosmini era un autore che gli italiani dovevano tradurre in inglese per poter capire che cosa dicesse effettivamente c'è questo problema nonostante fosse tanto amico di Manzoni come ricorda Cubedo nella sua notte editoriale nonostante avesse dato consigli stilistici a Manzoni tra Manzoni e Rosmini è una delle grandi amicizie sicuramente una delle grandi amicizie intellettuali della nostra storia paragonabile alla consuetudine trasmette Jung per esempio quanto è intensità ecco aveva con l'italiano un rapporto un po' diverso dovuto anche al modo in cui scriveva chi ha consuetudine coi testi rosminiani si accorge con una certa facilità che Rosmini dettava aveva degli Emanuensi ogni volta che si metteva ad avvicinare un tema che aveva conosciuto affrontato in lavori di tipo precedente prendeva in mano immagino fisicamente ciò che aveva scritto e elaborava ragionava a partire da cose che aveva scritto in passato questo fa da una parte del pensiero rosminiano una costruzione estremamente precisa e che ci appare diciamo così anche nel suo divenire segnata da progressivi raffinamenti ma sempre nella stessa direzione però ovviamente tra il dettare avere consuetudine con la scrittura una consuetudine materiale ecco c'è forse un po' un po' di differenza vorrei dire solo alcune cose su Rosmini perché abbiamo detto che era un personaggio straordinario ma forse è bene ricordare a chi si ascolta quanto straordinario fosse Rosmini Rosmini non ha una vita lunga nasce nel 1797 muore nel 1855 viene da una famiglia importante nella vita riesce a essere fondatore di ordini come è stato già ricordato anche perché proveniva da un ambiente sociale elevato si occupava quando anche insomma distrattamente ma ci sono tante sue lettere sul tema delle sue proprietà mostra sin da principio una vocazione intellettuale filosofica precoce e profonda i suoi due grandi amici sono altri due pilastri della cultura italiana dell'Ottocento cioè Alessandro Manzoni e Niccolò Tomaseo tanto di più tanto di meglio insomma il nostro paese non ha prodotto né allora né poi la produzione di Rosmini è sterminata io conto 59 volumi delle sue opere complete ma sono ancora in corso di pubblicazione c'è la corrispondenza eccetera e anche il suo ruolo politicamente è molto interessante Rosmini comincia il suo percorso reagendo insomma alla rivoluzione francese è affascinato dagli scritti dei conto rivoluzionari da Haller ma non solo poi pian piano invece sviluppa un approccio più liberale al punto di essere a un certo punto sostanzialmente un attivista per l'unificazione italiana per la quale scrive la costituzione secondo la giustizia sociale che rientra in questo genere letterario delle costituzioni per l'appunto anche lì lui sviluppa alcune considerazioni sulla natura e sui pericoli delle costituzioni che ci sono già in questo in questo libro e prima di essere come dire marginalizzato sostanzialmente dai gesuiti messo all'indice per alcune sue proposizioni e rifiutato dalla chiesa per delle cinque piaghe della santa chiesa che è un volume che oggi qualsiasi cattolico leggerebbe senza grossi problemi ma all'epoca sembra essere scandaloso nel 1848 Rosmini aveva rischiato di diventare cardinale la sua veste cardinalizia che si può vedere a stresa non se la mise mai purtroppo e aveva anche rischiato di diventare primo ministro degli stati pontifici dopo l'assassino di Pellegrino Rossi ma tutto insomma precipita con le vicende della Repubblica Romana una delle grandi tragedie della storia italiana perché prende un pontificato quello di Pio IX che era cominciato su coordinate decisamente liberali al punto appunto di questa vicinanza di questa consuetudine con Rosmini e poi invece la Repubblica Romana giustamente il Papa si viene costretto a fuggire a Gaeta e matura e con un atteggiamento un po' diverso rispetto a quello che all'epoca è il suo è visto come il liberalismo l'attenzione politica è costante agli iscritti di Rosmini noi sappiamo che lui comincia a mettere mano a delle opere politiche nel 1822 ci ragiona ci sono dei frammenti arriva pian piano una formulazione di queste idee che ancora rivede fino appunto a darcene siamo così forse una visione un po' definitiva ancorché semplificata semplificata ovviamente sempre per gli standard rosminiani nella Costituzione secondo la giustizia sociale che è la sua ultima grande opera opera politica qual è il problema principale con cui si confronta l'ha già ricordato Raimondo Kubetu nell'introduzione a una precedente edizione di questo libro ce ne sono due che si possono ancora trovare entrambe hanno introduzioni di importanti studiosi italiani l'una di Mario D'Addio l'altra di Sergio Cotta ma in un'introduzione Sergio Cotta scrive che sin dagli anni giovanili Rosmini prende della più seria considerazione la questione politica ponendosi in originale sintonia con la riflessione dominante in quel momento storico il problema di Rosmini è la rivoluzione francese sostanzialmente e qui il paragone con Tocqueville regge particolarmente pensando all'antico regime in realtà Rosmini conosce tutta la letteratura come dire della storiografia liberale della rivoluzione incluso Constani verso il quale non può che avere un atteggiamento ambivalente anche perché come sappiamo come dire la grande ossessione ormai pienamente compiuta di Constani era appunto scrivere questa grande storia della religione ovviamente su coordinato un po' diverse da quelle che erano quelle di Rosmini Ettore Passerendan Treva ha scritto un saggio se non sbaglio proprio su Rosmini e Constani e appunto il suo bisogno teorico e non solo è quello di riuscire a sintonizzare questi strumenti che ormai sono imprescindibili le costituzioni su una visione diversa della persona umana il suo antiperfettismo è una lungimirante operazione di rigetto della hubris delle ideologie dominanti all'epoca nel 48 scriverà che non da ieri ma da più di vent'anni io sono confermato nella persuasione che nelle costituzioni date a diversi popoli dall'89 in qua e foggiate alla francese si nasconde una profonda malattia questa malattia è appunto potremmo dire il perfettismo e il costruttivismo l'idea che la società possa essere manipolata come come un poco di qui un passo che c'è anche in questa visione in questa versione mirabilmente riassunta e diciamo così scritta in un italiano sciacquato nei panni nell'arno di oggi anziché in quello dell'epoca un passo interessante in cui Rosmini dice che il secolo XVII è un secolo di dottrine materiali quindi quello che diceva Kubeddu poc'anzi grande miglioramento nella conoscenza del mondo nel periodo illuminista ma al contrario per Rosmini le scienze che riguardano lo spirito vennero abbandonate e vi li pese quasi annientate quindi quel secolo che era il più colto per quello che riguarda le conoscenze materiali e accidentali anche smarrito scrive sempre Rosmini i principi gli stessi elementi del vivere civile e questo lo diceva un autore coltissimo sono già stati ricordati Malthus per esempio ma ovviamente Rosmini conosceva bene Jung sia Jung filosofo che Jung storico conosceva bene Locke conosceva bene Kant conosceva Gioia Romagnosi Se e Smith col quale ha un dialogo fecondo sin dalla più tenera età e precisamente come ricordava Bellelli Pocanzi in questa ricerca delle ragioni ultime della politica Rosmini sostiene che il fine della società politica è proprio l'appagamento di coloro che la costituiscono e dunque la politica come studio di quelle condizioni sociali cioè dei modi d'essere della società e dei processi che producono pagamento ma potremmo dire oggi con un termine a noi più vicino utilità per l'uomo certo un'utilità a tutto tondo la ragione di scontro tra Smith e scusate tra Rosmini e gli economisti e particolar modo la ragione della sua fortissima antipatia per Melchiorre Gioia è proprio diciamo una questione metodologica cioè Smith guarda con grandissimo interesse l'economia come una scienza che deve illuminare diremmo oggi l'accordarsi dei mezzi e i fini ma non deve fare una fuga in avanti e proporre diciamo così la sua soluzione riguardo i fini ultimi perché quello significa mettersi vesti diverse da quelle dell'economista da questo punto di vista non c'è qui perché nella prefazione opere politiche inclusa nelle altre edizioni ma qui forse prudentemente omessa c'è un passo di Rosmini che veramente funziona bene per confermare l'idea di Kubetu che Rosmini si possa avvicinare a Machiavelli anche per passione tra i grandi filosofi italiani tra i grandi filosofi politici italiani la filosofia scrive Rosmini continuo a sbagliarmi scusate congiunge i mezzi politici con il cuore umano e non è il cuore umano cosa pubblica ma privata nella segreta e solitaria stanza dell'uman cuore noi non possiamo entrare con intorno l'ingombro delle nostre esteriori grandezze dobbiamo spogliarci di tutto ciò che ci circonda che ci lusinga svestire la porpora scendere dal trono e rimasti uomini soli ignudi cercare di metterci dentro all'angusta porta e calare giù a visitare la cupa sede di segrete passioni di taciti calcoli di non creduti strazi di soffocati singolti e finalmente delle vere virtù e dei veri vizi dei nostri simili quindi un tentativo tutto fuorché irrealista di guardare alla natura umana anima gli sforzi di Rosmini vorrei dire solamente due cose in conclusione una su Rosmini liberale l'altra su Rosmini e l'economia comincio da quest'ultimo è chiaro che Rosmini parla di questa di questa alternanza tra la repubblica delle anime e la società esterna però attenzione Rosmini fa di tutto fuorché sottovalutare la società materiale anzi la società materiale è essenziale per lo sviluppo dell'uomo e quindi anche per il suo sviluppo spirituale e da questo punto di vista è veramente cruciale una sua affermazione che l'errore comune dei governi del Medioevo era la mancanza d'economia in una frase e poi nella sua trattazione di tanti altri temi tra cui cruciale la nozione di concorrenza di Rosmini Rosmini fa piazza pulita di qualsiasi nostalgia corporativa ovviamente la dottrina sociale della chiesa non c'è quando Rosmini scrive perché nasce con la regola monovale ma è da questo punto di vista lontanissimo dalle diciamo così nostalgie della società chiusa intesa come strumento di riequilibrio perché c'è anche una visione nobile di quelle realtà da parte degli autori che poi faranno la dottrina sociale il suo grande nemico nello studio economico è Gioia il suo grande amico è Smith tant'è che come dire la sua ostilità al sensismo di Gioia ha anche a che fare con la sua visione della ricchezza con la sua visione dell'importanza della frugalità per la formazione del capitale una cosa chiarissima in Smith c'è dappertutto insomma a Smith non piacciono quelli che i signori che assumono i servi perché è lavoro improduttivo come è noto e per la gioia di Raimondo un grande economista italiano cioè Augusto Graziani ha addirittura ritrovato nei testi economici di Smith delle affinità con Menger rispetto a un tema importantissimo cioè alla classificazione dei beni sulla base della loro prossimità alla soddisfazione dei bisogni questo è un punto che Smith fa nella sua critica di Gioia dice si possono classificare i beni anche oggi diremmo il capitale umano le attitudini delle persone sulla base del fatto che siano immediati o mediati e poi sono mediati possono essere mediati di primo grado quindi più vicini alla realizzazione di un bene di consumo di secondo grado eccetera 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 per non dire poi ovviamente delle posizioni smithiane sulla concorrenza sulla idea della concorrenza come promotrice della libertà individuale che Rosmini scusate ancora il bisticcio riprende in parte da autori francesi contemporanei come Charles de Noyer e ovviamente le sue riflessioni sulla proprietà la quale è centrale nel suo pensiero e sulla concorrenza e anche appunto tutto fuori che secondario sul sistema fiscale perché l'organizzazione della società e dello Stato dal punto di vista dell'organizzazione delle imposte è un tema cruciale per Rosmini Rosmini capisce che l'intelaiatura fiscale dello Stato ha poi a che fare insomma col genere di società che quello Stato sarà in grado di tutelare o al contrario di promuovere quindi io faccio veramente fatica a trovare diciamo così per quanto uno possa essere stretto nella sua definizione di liberalismo la forza di considerare Rosmini non un liberale penso che abbia ragione però il più acuto degli interpreti di Rosmini cioè Pietro Piovani nel sottolineare che Rosmini non è un cattolico liberale perché in Rosmini non ci sono due binari di riflessione che a un certo punto sono fatti convergere cambia idea sull'organizzazione dell'ordine politico nella sua vita ma non la cambia in ragione di venire alle prese di venire a patti con un altro modo di pensare Rosmini è liberale e cattolico nello stesso tempo perché tutte le cose di cui noi abbiamo parlato guardando insomma dall'angusta visuale di chi si occupa di questioni politiche sono per Rosmini deduzioni perfettamente logiche e straordinariamente e perfettamente inserite in quella grande e straordinaria architettura che è il suo pensiero vasto complesso a noi se vogliamo impenetrabile come lo sono spesso i grandi sistemi del novecento dell'ottocento scusate ancora ma che ha diciamo così in questa sua coerenza sicuramente uno dei suoi punti di forza ho parlato fin troppo faccio i nuovi complimenti a Raimondo Cubetto a Bellelli alle persone che hanno lavorato con loro e speriamo che appunto essendosi risolto il primo problema che rendeva Rosmini indigesto a tanti lettori adesso anche il secondo problema possa finalmente aver trovato soluzione grazie Alberto e immagino che sia il professor Cubetto che il professor Belelli siano stati particolarmente stimolati dalle cose che hai detto che hai notato e quindi io penso che un secondo giro fra di voi sia il caso ne approfitto perché il cenacolo rosminiano che abbiamo messo su continua a vedere insomma una partecipazione importante e invito chi ci segue a insomma approfittare di questi minuti che riserviamo al secondo giro per insomma avanzare qualche domanda se ce l'hanno e questo potrà solo migliorare i nostri lavori professor Cubetto se non hai l'audio ma penso che sono molto contento di questi generosi apprezzamenti che penso che vadano in misura molto piccola a me ma a Fernando e alla sorriva e alla professoressa Menzio non ho niente hai ragione certo dobbiamo vedere le cose sul liberalismo e cattolicesimo in una prospettiva di quello che era allora cos'era il liberalismo allora diciamoci diciamoci la verità si era iniziato appena a parlare di liberalismo e non si sapeva forse neanche chi metterci o forse non tutti quelli che dopo abbiamo considerato o chiamato liberali si ritenevano tali in quegli anni per cui sono perfettamente d'accordo Alberto con quello che hai detto quello che volevo dire io era sostanzialmente quello che noi pensiamo ora del liberalismo è il frutto anche di una revisione concettuale del tracciare una storia sicuramente quello non c'era non poteva essere fatto in qualcosa che era ancora in compimento in quegli anni quindi insomma non ho nessuna obiezione alla tua soluzione Alberto niente semplicemente voglio dire che volevo dire che cerchiamo di evitare i facili le sintesi facili ecco un grande pensatore un filosofo politico come Rosmini non può essere facilmente catalogato in categorie che tutt'al più vanno bene per non dico le mezze figure in termine dispregiativo ma insomma è così un grande pensatore come Rosmini ha una sua visione del mondo e quindi tutte le cose vanno viste in quella in quella dimensione e sarebbe riduttivo secondo me anche considerarlo cattolico liberale però è riduttivo ecco è riduttivo ecco e qui lascio spazio alle altre alle domande più che altro grazie per tutte le parole gentili che avete avuto per il nostro sforzo volevo dire una cosa però in finale noi abbiamo fatto una riduzione però non abbiamo evitato di mettere l'indice dei nomi tutti i nomi che Rosmini cita nella versione nell'edizione critica curata da Mario D'Addio sono messi in corsivo mentre gli altri sono in tondo forse il contrario però abbiamo voluto dire attenzione non è che noi abbiamo fatto delle censure lo senso di questa operazione è nessuna censura chi vuol vedere perché qui chi vuol vedere cosa dice di non so chi sì vado a vederlo lo troverà nell'edizione originale purtroppo abbiamo dovuto fare dei tagli anche per motivi per motivi editoriali non è un'antologia è una selezione di capitoli non abbiamo fatto ulteriori tagli bene grazie aspetto le domande da parte del pubblico che ringrazio per la pazienza e per l'attenzione grazie professore e professore Belelli se vuole aggiungere qualcosa poi mi segnalano dalla regia che c'è forse se ho ben capito anche un intervento del professore Belelli grazie al volo alcuni flash ho questo a dire anche se forse eccedo in ogni caso alcuni feedback nella condivisione non vorrei che diciamo passasse inosservato che la prima opera tradotta in inglese di Rosmini è stata del principio supremo della metodica negli Stati Uniti nel circolo orbitante intorno a Thomas Davidson e che quindi il rapporto tra la pedagogia e la politica di di Rosmini secondo me è ancora da studiare molto più stretto di quanto non si immagini ancora nell'introduzione alla filosofia Rosmini diciamo ritiene deprecabile la sovrapposizione che viene fatta tra la filosofia della politica e l'economia politica lui proprio sostiene che la sostituzione cioè quando l'economia politica si sostituisce alla filosofia della politica prevale il sensismo e il materialismo a discapito del bene della persona nella sua pienezza e sul tema della sua attenzione alla materialità credo che è ancora tutto da scoprire e da rivedere il rapporto tra Rosmini e Locke perché l'interlocutore uno degli interlocutori privilegiati di Rosmini è Locke sul tema del sensismo e la forma reale dell'essere nel sintesismo triadico e trinitario della sua speculazione filosofica è in qualche modo una critica teoretica a Locke nel senso che ridice la stessa cosa di Locke ma diciamo criticando sostanzialmente la sovrapposizione tra l'essere reale e l'essere ideale che per Locke è stata vista in senso più idealistico di quanto non sembra e per questo è arrivato il sensismo e per Rosmini invece il sensismo rovesciabile è proprio una misura in cui si ricomprende il rapporto tra l'ideale e il reale nella moralità e questo incide il discorso dell'economico del politico e del sensismo comunque della materialità sicuramente è una chiave sulla rilettura della pagamento che ci porterebbe molto lontano sono solo alcuni flash così strampalati grazie anche io mi associo ringraziamente grazie e allora professor belardinelli allora gli ho aperto il microfono adesso dovrebbe essere in grado di parlare forse vedo che ha però il microfono ancora rosso quindi è lui forse che deve disattivare riattiva l'audio devo fare eccoci la sentiamo buonasera buonasera ma io non pensavo di io pensavo solo di dover dire grazie perché ho letto sia la prefazione di Raimundo al libro di Rosmini sia quella di Fernando Bellelli e quindi volevo solo ringraziare perché secondo me è un'operazione culturalmente rilevante avevo insomma letto negli anni mi è capitato spesso di leggere Rosmini però ecco leggerlo in italiano è tutta un'altra cosa veramente è tutta un'altra cosa e quindi già solo questo secondo me rende oltremodo meritorio all'opera che è stata fatta anzi sarebbe da continuare anche su altre cose su altre opere perché Rosmini se posso mi permetto due considerazioni Rosmini è un autore oggi diremmo estremamente inattuale ma proprio per questo attualissimo attualissimo non solo in politica ma sarebbe attualissimo anche nella sua dimensione teologico ecclesiologica abbiamo a che fare con un autore che avrebbe molto da dire oggi a tutti i livelli faccio solo una considerazione su quanto ha detto Alberto e su quanto ha detto Raimondo ad Alberto dico grazie per aver accennato al fatto che Rosmini più che essere un cattolico liberale cioè col trattino è un cattolico e liberale con la congiunzione è un po' di tempo che vado cercando di far vedere la differenza secondo me andrebbe enfatizzata perché ci sono parecchi grandi che secondo me rientrano più nella categoria dei cattolici e liberali che in quella dei cattolici liberali col trattino non è solo Rosmini io penso a Lord Acton penso a quelle a quelle figure che hanno veramente detto qualcosa dal fronte cattolico in materie che diciamo sono state arate in modo particolare proprio sul fronte liberale anche quindi hanno istituito un un confronto del quale io spero continueremo ad avvantaggiarci spero anche se ripeto mi pare che siano prospettive specialmente oggi molto inattuali sia sul piano cattolico che sul piano liberale che sia sul piano della chiesa sia sul piano della politica ecco Raimondo parlava del problema teologico politico Alberto Ampassant ha detto chiaramente che la soluzione economica del problema teologico politico non è possibile che pensassero qualche qualche austriaco ecco però il problema teologico politico resta è un è qualcosa sul quale secondo me dovremmo stare tutti un po' di più specialmente oggi perché lo dico con una battuta secondo me da sempre pur acquisendo configurazioni differenti dentro il problema teologico politico c'è fondamentalmente io così lo dico un po' c'è il problema del limite che è un problema del limite della politica è un problema del limite della religione è un problema del limite del potere tecnico o tecnocratico è il problema del potere teocratico insomma finché è vivo il problema teologico politico sarà sempre viva mi auguro è la percezione del limite del senso del limite la necessità e direi quasi proprio la salutare presenza del limite è che alcune posizioni vuoi sul fronte costruttivista vuoi sul fronte teocratico che sono tanto parenti stretti non riescono più a vederlo il limite e poi finisco ringrazio Alberto per quella pagina che ci ha letto che sembrava Balzac era ma che dà un senso di quanto questi avessero le balle letteralmente nella comprensione di quel guazzabuglio del cuore umano che poi è il punto di riferimento anche delle cose politiche comunque ancora grazie perché è veramente è stato un piacere ascoltarvi stasera e soprattutto è stato un piacere vedere quest'opera che adesso sto tenendo in mano eh ok sì ecco grazie Raimondo e grazie Fernando e grazie Alberto per per quello che ha detto grazie professore per questo intervento che ha aggiunto ha qualificato ulteriormente la la serata e è stata una serata intensa siamo siamo andati leggermente lunghi ma i partecipanti sono rimasti con noi fino alla fine e quindi io insomma facendo un po' gli onori di casa ringrazio tutti voi per aver partecipato ancora una volta Fernando Berelli Raimondo Gubelio Alberto Mingardi per averci guidato in questa iniziale riscoperta di Rosmini e facendo il mio dovere vi ricordo in chiusura anche se si fa con questo effetto specchio che il libro che abbiamo presentato questa sera è la nuova edizione in italiano corrente della filosofia politica di Antonio Rosmini presso l'editore Cantagalli che trovate ovviamente in tutte le librerie fisiche ma anche in tutti gli store digitali quindi grazie ancora e ai prossimi eventi grazie a te Giuseppe per l'amirabile conduzione grazie a Veronica in regia e di nuovo grazie davvero a Cubeddu Belelli che ha lavorato con loro per averci reso possibile come è stato detto molto efficace dal professor Belardinelli di leggere Rosmini in italiano posso dire posso dire che se dei ringraziamenti devono essere fatti questi devono essere fatti a suor Maria Michela Riva e alla professoressa Nida Menzio perché veramente se questo se voi se voi ci dite che noi abbiamo fatto bene noi abbiamo fatto bene grazie a loro grazie a loro un grazie veramente di cuore perché è stato un lavoro bello bello grazie grazie speriamo che si applichino presto anche ad altri auto dello Spignane arrivederci allora grazie a tutti grazie buona serata grazie grazie